Ehi salve a tutti, bentornati sul mio canale. Un paio di giorni fa ho fatto un video della nuova linea della metropolitana della città di Monterrey, ma c'era una stazione che ha catturato la mia attenzione e per questo motivo ho deciso di realizzare questo video per mostrarvi più in dettaglio. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!